Sventata una truffa milionaria grazie all'intervento della Polizia Postale di Firenze e Arezzo in collaborazione con il Servizio Centrale della Specialità presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Una nota azienda dell'Arettino stava per inviare 2 milioni di euro con bonifici relativi a transazioni commerciali con una società tedesca da tempo sua fornitrice. Un reale messaggio di posta originato dall'azienda beneficiare è stato modificato dagli hacker in alcune parti, in particolare sulle coordinate bancarie in maniera da far confluire il denaro su un conto corrente diverso da quello realmente in uso alla società. Questa truffa è nota come BEC, Business Email Compromise in italiano, posta aziendale compromessa. Sono stati gli esperti della Polizia Postale presso cui l'azienda aveva sporto denuncia ad attivare le procedure di richiamo delle transazioni riuscendo a recuperare buona parte del denaro ottenendo il congelamento delle somme. L'intestatario del conto corrente su cui stavano per essere convogliate le somme e che si trova in Germania è stato denunciato e il conto corrente bloccato. Sono in corso ulteriori indagini per risalire ad eventuali altri complici.